Calcio.basket è offerto da Emporio Gastronomico e Coconuts Erbavita Gruppo Marcar Isolcasa Lasersoft Lo Zodiaco Frontemare Misano World Circuit Onoranze Funebri Cappelli Onoranze Funebri San Gaudenzo Osteria La Cappannina e La Tramonteria Qui Si Sana Ristorante La K Rose and Crown Rosso Pomodoro Pizzeria Prima o Poi SGR Luce e Gas SGRELA I just I just I just I just I just I just La terza trasferta stagionale per Riviera Banca Rimini a Torino, sul campo di una rale mutua che è in classifica a sei punti, la metà di 12 conquistati sinora dai Biancorossi, battuti solo da Cividale e reduce delle saltante derby vinto con Forlì. E' l'anticipo dell'ottava giornata. Si parte con un 4-0 di Rimini, firmato Johnson e Marini. Ancora Johnson e Marini, con i uvati da Camara, portano il RBR sul più 8, 4-12. Schin e Ladurner, con un 5-0, riavvicinano il giallo-blu, 9-12. Il finale di frazione sorride per i Romagnoli, a segno con grande Johnson, 11-19 al decimo. In avvio di secondo parziale, Masciadri a segno per il più 9, 13-22. Taylor, Schina e Jai riavvicinano Torino, 23-25, dopo una spettacolare schiacciata dell'americano. Camara si fa apprezzare su ambilati del campo, tra stoppate canestri. La tripla di Tomassini, sul suono della sirena, fissa il 31-38 dell'intervallo lungo. Due canestri di Robinson e uno di Tomassini fanno toccare RBR per la prima volta da doppia cifra di vantaggio sul 34-44, che diventa più 12 dopo il pick-and-roll a Tomassini-Camara, 37-49. E più 13 dopo la tripla di Grande, che chiude il terzo tempino sulla 46-59. Il 5-0 della coppia a Jai Taylor, che apre l'ultimo quarto, e la tripla di Landi, per il meno 7 sul 54-61, sono il canto del Cigno di Torino, che dopo la conclusione da 3 di Marini, 54-64, non tornerà più sotto la doppia cifra di svantaggio. Anzi, Rimini tocca sul 56-78 il più 22, con un 17-2 che porta in calce sei firme diverse, a testimonianza della grande prova corale dei ragazzi di Dell'Agnello. In 5 chiudono in doppia cifra, con top scorer grande a quota 15. Nel garbage time, la reale muto è in filo un parziale di 12-2, che riduce il gap fino al 68-80 finale. Vince Riviera Banca, che complice la sconfitta di Cantù a Cividale, torna momentaneamente capolista solitaria. E c'è rimasta anche dopo i match della domenica. Buonasera e bentrovati al nostro appuntamento con la serata basket di Calcio.Basket. Ovviamente parleremo della sfida vinta a Torino da RBR, l'ennesima bella impresa da parte dei ragazzi di Sandro Dell'Agnello, ma ci proietteremo anche verso il vicinissimo match con 100 di mercoledì sera alle 21 al Flaminio. Tutto questo lo faremo con il nostro Alessandro Ceccoli. Buonasera Alessandro. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Con il team manager di Riviera Banca Basket Rimini, Tommaso Rinaldi. Buonasera Tommaso. Con il nostro pioninista Maurizio Benatti. Buonasera a tutti. Con il playmaker dei Villanova Tigers, Alessandro Vandi. Ciao, buonasera. E con il giornalista Alberto Crescentini. Buonasera. Allora, parto ovviamente da Tommaso, devo dire insomma una partita ben giocata da Rimini, è più forte Rimini di Torino e si è visto, l'ha dimostrato. Sì, anche se al rispetto del risultato finale è stata una partita molto molto tosta, perché loro sono una squadra dura, avevano fatto questa promozione, quindi avevano riempito tutto il palazzo, c'erano più di 4.000 persone, quindi si sentiva. Siamo stati bravi noi a rispondere con altrettanta durezza e a disinnescare i loro momenti di break. Molto bene in difesa, bene in attacco perché Rimini praticamente su 80 punti si fa sempre e ne concede spesso e volentieri insomma una settantina di avversari, 68 a 80 in questo caso. Esatto, un po' come sulla Fala Seriga dell'anno scorso, diciamo che l'attacco non è mai un problema, perché ci sono tantissimi giocatori con tanti punti nelle mani. Devo dire anche nessun egoismo che aiuta a distribuire e a passarsi bene la palla. La cosa che cambia ovviamente è quando difendi o meno. In queste prime otto giornate direi che ci siamo riusciti egregiamente. Ecco, la differenza Alessandro, a parte insomma i diversi valori tra Rimini e Torino, sta anche nel fatto che Rimini, come diceva anche Tommaso, è una squadra che a livello di attacco gioca in maniera, diciamo, distribuendo molto bene il punteggio, quindi insomma senza troppi individualismi. Invece Torino è la classica squadra che ha i due americani che devono fatturare tanto e quindi se vengono limitati i due americani poi diventa più difficile far canestro per gli altri. Sì, praticamente non hai mai un punto di riferimento, un singolo o un doppio punto di riferimento per le squadre avversarie in campo, perché comunque sai benissimo che il quintetto è potuto produrre punti in maniera comunque semplice, perché è una squadra che sta giocando molto bene insieme, dove a volte c'è un passaggio in più che consente di avere un tiro con i piedi per terra libero a un compagno. Sono tutti realizzatori, ma sono tutti anche ottimi passatori, perché se non sbaglio, guardavo la classifica degli assist, ci sono quattro giocatori di Rimini che sono sopra i tre assist di media a partita, quindi è tanta roba, perché ci sono Marini, Grande, Robinson e Tomassini, sono tutti sopra i tre assist di media a partita. E come dire, in questo momento qui ho visto anche un po' di partite delle altre squadre e mi sembra che Rimini sia la squadra in questo momento più in forma del campionato insieme a Cividale, non perché ci ha battuto, ma per come sta giocando. Alberto, questa distribuzione anche del punteggio di Rimini, che manda cinque giocatori in doppia cifra, sicuramente è una delle chiavi di lettura di questo primato. Assolutamente, anche io ho dato una spulzata alle cifre e ho notato come il miglior marcatore di RBR, in questo momento è Marini, stia viaggiando a 15,2 punti a partita, che lo colloca, mi sembra, attorno alla diciannovesima posizione in assoluto in R2. E questo è un bene, che a qualche annetto, mi rivolgo a Maurizio in particolare, può ricordare che... Perché mi hai citato proprio... Perché è l'unico che mi tiene in partita. Mi ricordo, insomma, un giocatore straordinario, offensivamente, come Oscar Smith, brasiliano, giocò otto anni a Caserta, il primo anno che andò via, Caserta vince lo Scudetto, dove c'era appunto anche Sandro Dell'Agnello, tre protagonisti, era il 90-91. Perché un uomo solo raramente vince le partite. È vero. Magari ne può vincere una, ma alla lunga non paga mai. E Rimini ha la sua forza e il collettivo. Io penso che ci siano veramente dieci giocatori che a turno possono essere protagonisti, possono segnare dieci, quindici punti, fare il canesto decisivo, prendere il rimbalzo chiave, recuperare un pallone, dare una stoppata. E questo è un bel vivere, insomma. Riallacciandomi al tuo discorso, faccio un esempio riminese, JJ Eubanks, tagliato con 35 di media. No, e allora, JJ Eubanks fece la bellezza di 130 punti in 4 per 1. 32,5 di media. Ancora per me si interroga perché è stato tagliato. Gli avevano chiesto di far canestro, lui lo faceva. Peccato che non fosse funzionale. Poi arrivò un certo Larry Middleton, non andò malissimo. Fece un quarantello subito la prima, mi ricordo. Sai, 33, 32,5 di media. Bella male. In effetti. Maurizio, ti è piaciuta di più in una partita, comunque giocata molto bene da parte di Rimini, la parte difensiva o la parte offensiva? Perché qui c'è l'imbarazzo della scelta. Allora, ovviamente la parte offensiva ha il suo riscontro. Nel senso che questa è una squadra che ha una media di 82 punti a partita, 85. Quindi dal punto di vista offensivo è diventata in queste partite una certezza, portando a referto spesso e volentieri in doppia cifra 4-5 giocatori. Gli altri che segnano un po' di meno si avvicinano alla doppia cifra. Quindi, devo dire, tutti quanti hanno un'importanza nel gioco. Ci si aspettava una partita da parte di Torino in difesa molto aggressiva. Devo dire che in parte c'è stata, però credo che si siano invertiti i fattori. Torino e Rimini ha difeso molto meglio rispetto a Torino. Li ha messi in difficoltà con aiuti, con recuperi. E soprattutto rispetto all'edizione dell'anno scorso, sono cambiati i meccanismi anche in difesa. Se ben ricordiamo, le prime partite dell'anno scorso, quando arrivò Dell'Agnello, la costante era sempre quella. Venevano battuti uno contro uno, arrivavano facili al ferro e non c'erano mai aiuti del lato opposto. Quest'anno, quando vengono battuti, lì in mezzo si trovano un totem di 2-12 che, oltre a stoppare, mette in grande difficoltà gli avversari con i tiri da sotto. Quindi, devo dire, è un'aggiunta che dà qualità alla squadra nel complesso. Attacco difensivo. Alessandro, ovviamente segui sempre le vicende di RBR con affetto, no? Certo. Ti aspettavi un avvio di campionato così brillante da parte di Torossi? Ma guarda, intanto buonasera a tutti. Secondo me RBR, già sulla carta, alla partenza, aveva degli effettivi molto importanti. Comunque una rosa molto lunga e molto, molto competitiva. Quindi sicuramente mi aspettavo un andamento buono in campionato, ma non così tanto. Cioè, non mi aspettavo dopo 8-9 giornate la prima posizione in classifica. Però sono molto contento di questo, ecco. Ecco, ovviamente, Tommaso, è un primato che, insomma, chiaramente ancora sono poche giornate. Però, viste le corazzate che ci sono e visto anche il livello, poi sentiremo anche una chiave di lettura di questo campionato, fatta nel dopogara da Sandro Dell'Agnello, così sarà utile come tema di riflessione. Insomma, penso sia un motivo di grande orgoglio, no? Il fatto di essere da soli, in testa, in un campionato così. No, no, assolutamente è una cosa, una, diciamo, piacevole sorpresa, tra virgolette. Nel senso che la squadra si allena sempre molto duramente in palestra. È vero, magari siamo stati avvantaggiati da queste prime cinque giornate in casa, però comunque le partite le devi vincere, anche perché avevi fortitudine. Affrontando avversari poi, insomma, non proprio morbidissimi. Partite semplicissime. È vero che la stessa Peser e Brindisi non resteranno così a lungo, così lontane, ecco, in classifica, ed è un campionato talmente lungo che può succedere qualunque cosa. Poi, soprattutto quest'anno che c'è stato il cambio, non c'è più, ci sono le andate e ritorno sfalsate, no? C'è il calendario messo in maniera un po' così. Lì, l'altro giorno parlando con il coach, con Sandro, dicevamo che noi abbiamo incontrato la fortitudo alla terza giornata e la rincontriamo all'ultima di ritorno. Cioè, quindi c'è il caso che cambino completamente squadra. Quindi anche quelle sono delle variabili da tener conto. Eh no, indubbiamente, insomma, diciamo, il cammino è ancora lungo. Alessandro, dopo quello che sta facendo Cividale, no? Che aveva fatto già prima di affrontare Rimini, ma che ha fatto anche subito dopo. C'è, diciamo, un pizzico di rammarico in più ancora o in meno per quella sconfitta arrivata a quattro decimi di secondo dalla fine? Guarda, io l'ho metabolizzata, nel senso che l'abbiamo buttata nel cesso, detta com'è. Come ti piace dire, la pane pane vino al vino? Esattamente, però è anche vero che la prima giornata ti hai vinto l'ultimo tiro a Piacenza contro una squadra che in quel momento non sapevi com'era. che poi ha vinto la prima partita d'America scorsa, però voglio dire, te hai vinto l'ultimo tiro, il tiro di Marini non è niente, te hai perso la prima partita. Sono i particolari che fanno la differenza, molte volte, un cammino così non me l'aspettavo davvero. Un pizzico di rammarico c'è per come è venuta dopo quello che era successo fino ad oggi, poi magari dopo ti cambiano le altre, voglio dire. Sei così, sei primo da solo, anche se in questo momento è solo una questione così di forma, perché anche di sostanza, ma in questo momento siamo troppo lontani dalla fine del campionato, però voglio dire, quello che è stato fatto fino ad oggi secondo me è stato un grande risultato, quindi non ho nessun tipo di rammarico. L'unico dispiacere che ho, che l'ha appena detto Tommaso, perché non me lo ricordavo, è che l'ultima giornata con la fortitudo mi sta già un po' sul naso ricordando il passato, capisci? Mi ricordo se è un precedente, mi sembra di ricordare. Un precedente qualche anno fa. O ultimo o penultimo, forse è l'ultima fuori, e ne abbiamo un'altra in casa alla fine. Chiudi in casa, 26 aprile si chiude. Con Nardò, allora, sì, sì. Diciamo che il precedente nefasto era legato. Però si trova sempre sul logo del delitto, è sempre un padosso. È vero. Alberto, chi è il giocatore che fino a questo momento ti sta stupendo in positivo di RBR? Anche di quelli che c'erano già, eh? Sì, risposta immediata, Camarà. Sarà anche mia ignoranza, che non lo conoscevo francamente a fondo come giocatore. Sarà che l'anno scorso non eravamo proprio abituati benissimo nel ruolo di centro. Come alternativa a Simeoni, fatto stacco a questo ragazzo. Poi mi stupisce una cosa, essendo così giovane, la continuità. Perché essere capaci di gesti esaltanti, sfruttare i centimetri che ha, l'atletismo, tutto bene. Ma questo praticamente mi sembra che su otto partite solo una volta non è andato in doppia cifra e ne ha messi otto. Quindi non c'è andato lontano. 24 e 2, no. Lui oscilla da 10 a 15, a 14. Giocando poco poi. Giocando quei 19-20 minuti, mi sembra, non di più. Altro fattore, secondo me, rimarchevole, per essere un ragazzone molto giovane, molto alto, che tira con il 76-77% liberi. Ed è di gran lunga il giocatore di RBR che subisce più falli. È andato in lunetta molto più di tutto. Sai, mandarlo in lunetta, questo se va bene fa 1-2 è un conto. Mandarlo in lunetta, spesso ti fa il 2-2, poi fa scoraggiare un po' gli altri nell'usare questa arma. Ecco, dove può arrivare Camara e Tommaso, da lungo lungo? Ma allora, lui secondo me ancora ha tantissime potenzialità davanti. Perché può imparare ancora a usare ancora meglio il corpo, magari a ricevere meglio in alcune situazioni dinamiche. Però obiettivamente sta facendo un lavoro incredibile, perché è davvero un fattore. Adesso venerdì a Torino gli hanno messo tre stoppate sullo score, ma almeno 4-5. Una di sicuro in più, se non due. E comunque, anche come diceva prima Maurizio, quando non stoppa, te lo trovi davanti, inizia a diventare un fattore. Diciamo che intimidisce abbastanza, insomma. E tra l'altro la percentuale ai liberi l'ha un po' sporcato proprio Torino, dove ha fatto 4 su 6. L'unico giocatore di RBR se ne ha dato in lunetta, tutto suo. Quindi, insomma, 67%, leggermente sottomedia, perché ci aveva abituato davvero tantissimo. Invece io vado nel tuo ruolo, Maurizio, perché c'è un altro giocatore, secondo me, che sta facendo un campionato importante. È chiaro, non ci stupisce, perché conoscevamo già la forza di questo giocatore. Però Alessandro Grande, quest'anno, secondo me, ha fatto un salto di qualità, qui a Rimini perlomeno, rispetto all'anno scorso, dove perlomeno in avvio, insomma, aveva lasciato un po', diciamo, un po' scontenti, no? Se vogliamo, non contenti a pieno. Invece adesso è partito fortissimo. Beh, Alessandro, rispetto all'anno scorso, sicuramente è partito con molta più fiducia. Si vede che sta bene, qualsiasi palla ha nelle mani la rende ereditizia, sia per i compagni che per se stesso, ha esperienza. Sicuramente il giocatore che arrivò da Agrigento all'inizio ha vissuto dei periodi difficili, perché la squadra non andava bene, il suo ruolo non era proprio quello di playmaker puro e quindi doveva crearsi tiri e roba per gli altri che a Agrigento gli venivano in modo facile. Anche quest'anno, chiaramente, quando entra si crea per sé, quando gioca proprio in play, però io credo che le cose migliori le vediamo quando è sgravato dal fatto di dover impostare e invece in cabina di regia c'è Robinson, c'è Tommasini, alle volte c'è persino Marini, quindi gli danno un po' tregua nel portare e imbastire le azioni. Quindi tutto questo sicuramente ha agevolato il suo inizio di campionato. Credo che in questo momento sia uno delle playguardie migliori della Lega. Altro giocatore che quest'anno sta rendendo, secondo i suoi standard qualitativi altissimi, Tommaso e Tommasini, perché Giovanni quest'anno sta facendo quello che poi ci si aspettavano quando è stato acquistato. Sì, è una grossa fortuna di avere una squadra così lunga e che riesci a gestire benissimo tutti i giocatori. Tanto quando hai una rotazione a 9-10 riesci a calibrare meglio, perché magari Tommasini che gioca a 30 è un altro rispetto a Tommasini che gioca a 20 e lo puoi mettere nelle situazioni specifiche. Non lo scopriamo di certo oggi Giovanni, quindi quando è usato in questa maniera chirurgica è letale. Invece ancora, Alessandro, stiamo aspettando il miglior Robinson, perché ci fa vedere qualche sprazzo di grandissima qualità. Un giocatore sopraffino che non scopriamo certo noi qui a Rimini, però ancora si vede secondo me che non è al 100%. Io credo sia forse ancora al 50%, poi chiedo anche a Tommaso a che percentuale può essere secondo lui che lo vede in palestra tutti i giorni. Questo è un giocatore che ha visto l'Europa, è un giocatore che ha giocato in Serie A a livelli veramente molto alti, chiaramente in questo momento qui, riduce da una fase di prestagione non fatta, perché mentre la squadra si stava allenando qua a Rimini, lui era un ululo in vacanza, quindi beato lui, per carità. Quando è arrivato la prima partita si è strappato, un po' di anni sulle spalle lì ha, i tempi di recupero chiaramente si allungono un attimino, questo non gli ha consentito di essere il giocatore che perlomeno chi è nel settore agli atti lavori conoscono. Però sono convinto, esqui la tiro, che con un Robinson anche al 90% questa squadra, fai fatica a dire che non può ambire la Serie A, perché completi tutti i reparti, due americani che sono forti, difendono in maniera egregia quest'anno, la parte difensiva è la parte migliore, perché Torino ha fatto 68 punti se non sbaglio, ma facendone 15 ha partita finita. Sì. 12 a 2 alla fine. 12 a 2 alla fine, quindi ne hanno avanti 56, 56 a 78. 56 in 35 minuti, quindi voglio dire, una squadra che sta veramente dando tanto, e con un giocatore come potrebbe essere Robinson, che secondo me è di un altro livello, a livello di lettura, perché quando lo vedi che è quei 5 minuti che è più lucido, fa delle cose che altri piccoli non fanno, puoi fare ancora l'ultimo salto di qualità, puoi giocartela. Ecco, tra l'altro poi, guardando invece le percentuali offensive di Riviera Banca, Torino, 23 su 38, 61% da 2, 10 su 24, 42% dall'arco, quindi stiamo parlando di percentuali stratosferiche, stratosferiche, insomma, se tiri così hai ottime possibilità di portare a casa poi la partita. A che punto è Robinson, Tommaso? Allora, lui sta migliorando giorno dopo giorno, fondamentalmente ha semplicemente bisogno di allenarsi e giocare. E' un ragazzo d'oro, quindi si allena, si impegna, c'è stata una cosa particolare a Torino, dove lui ha fatto un recupero, è uscito dal campo, ha ripreso la palla, è assegnata da tre, praticamente quasi chiudendo la partita. Sì, sì. Diciamo che non tutti lo fanno, soprattutto non lo fanno a volte gli italiani, figuriamoci gli americani. Quindi stiamo andando bene, quindi per lui è solo un vantaggio, nel senso che magari non deve avere la foga di recuperare per aiutare una squadra che sta andando male. Quindi noi lo aspettiamo, siamo molto tranquilli, lo vediamo tutti i giorni come lavora in palestra, quindi non abbiamo dubbi. Io ho azzardato 50%? Ma guarda, al di là delle percentuali, veramente non è, ti ripeto, ha bisogno di mangiare il campo, sia in palestra. Mi hai detto 50% perché mi aspetto tanto, perché insomma, sapendo il valore del giocatore, mi aspetto tanto. Alessandro, c'è un'ampia varietà anche come caratteristiche, nei giocatori a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello, qual è quello che ti piace di più, a cui ti ispiri di più? Allora, sicuramente negli esterni c'è un pacchetto gigantesco di scelta, sicuramente l'esperienza, il mix tra esperienza, talento, visione di gioco di Giovanni Tomassini, secondo me, il giocatore più completo, forse tra quelli, quello che ha visto più palacanestro, insieme a Robinson, e si vede un espertone del campionato, se vogliamo, quindi come diceva Tommaso prima, quando viene usato quei 20 minuti, chirurgicamente, è veramente letale, fuori di testo, secondo me è un giocatore incredibile. Ecco Alberto, abbiamo visto anche a Torino quel tiro su una gamba sola, che però non è casuale, non è fortunoso, fa parte del suo bagaglio, ce li ha quei tiri, ce l'ha spiegato lui stesso, mi sembra, in conferenza stampa dopo una partita in casa, niente che dire, non a caso era stato eletto MVP della Lega 2, mi sembra, l'anno prima di venire a Rimini, il problema è sempre quello, cioè non essendo più un bambino, dell'88 a 36 anni compiuti, anche un accettino lieve, magari a un ragazzo ci vogliono tre giorni, a lui magari serve una settimana, ecco, se incrociando le dita la salute lo assiste sempre, è un valore aggiunto, non dico un lusso per la categoria, ma è un valore aggiunto all'interno della squadra. Allora, un messaggio da parte di Max, il Rimini vestito di rosso, sembrava lo sciocco, citazione del fumetto Salmdank, spero insomma di aver pronunciato tutto giusto, perché non lo seguo, l'unica propensità è Robinson, sembra che faccia alcune cose con troppa semplicità, non capisco se deve ancora smaltire i problemi fisici oppure sottovaluto da due, che è un campionato tosto. Io penso, Maurizio, che sia solo una questione di condizione, diciamo, Atletica ancora da trovare al cento per cento, non penso che un giocatore come lui, un professionista come lui, possa sottovalutare questo campionato. Assolutamente no, è stato detto già da loro, da Tommaso e gli altri, il suo stato attuale, chiaramente concordo con loro, poi Tommy lo vede allenarsi tutti i giorni, ha le sensazioni diverse rispetto a quelle che possono essere del pubblico che lo vede una volta alla settimana, non sappiamo che lavoro particolare stia facendo, chiaramente ha bisogno del campo, ha bisogno della corsa, ha bisogno delle cose che lo rendano stabile fisicamente. in quelle poche apparizioni che vediamo si vede sicuramente la mano e l'esperienza di un giocatore che ne ha viste tante, che sa quando è il momento di far canestro, quando è il momento di innescare i compagni, quindi, voglio dire, ragazzi, se ci mettiamo qui a discutere su Robinson e fare tante illazioni sul suo operato, in uno stato di forma che ancora deve arrivare, io credo che appena raggiungerà il top sarà in grado di far vedere quello che ha fatto sempre vedere in questi anni su tutti i campi. Concordo. Parliamo dei Tigers, Fascoffi-Villanova che ha battuto il Cesena Basket 2005 per 68 a 65, quindi punteggio abbastanza basso, sono i punti che ha fatto Torino in 68, però avete fatto meglio in difesa addirittura di RBR. Allora, avete dovuto fare a meno, oltre che di Zanoni, di Brocchi, di Bollini, di Mussoni, poi Ceccarelli, anche tu stesso insomma, eravate un po' acciaccati, malconci, e il coach Marco Miriello, venuto in panchina ma ha influenzato, quindi ha lasciato guidare la squadra il vice Giacomo Ravello che l'ha guidato molto bene perché l'ha guidata alla vittoria. Raccontaci un po' questa partita, che partita è stata? Sofferta fino alla fine comunque? Soffertissimo fino alla fine e sembra che per queste prime cinque giornate questo potrebbe essere l'andamento un po' delle nostre partite, un po' altalenante almeno finché non siamo al completo. Quello che penso io è che al completo quando tornerà il capitano Giacomo Zannoni, quando staremo tutti bene fisicamente, tornerà Mussoni che ci darà energia, sicuramente saremo una delle squadre da battere, questo per me è chiaro. La partita in sé con Cesena è stata una partita dall'andamento sempre a favore nostro più o meno, gli ultimi otto minuti siamo ritrovati sopra di tredici punti mi sembra e poi un po' l'inesperienza, un po' la stanchezza, un po' il cambio di mille difese di Cesena ci ha messo un po' in difficoltà ma comunque siamo riusciti a portarla a casa in un modo o in un altro e questo era importante. Quattro giocatori in doppia cifra, devo dire non male visto il punteggio non altissimo, Polverelli e Signorini hanno scritto 14, Buo 12, Ceccarelli 11 e tu sei andato vicino con otto punti. Sì, sì, no, i tiri sono sicuramente, le azioni offensive sono ben gestite da tutti i ragazzi, stiamo giocando bene, secondo me manca la percentuale quindi i tiri sono buoni, mancano le percentuali ma adesso con l'andare del campionato arriveranno sicuramente. Ora dovrebbero rientrare Bollini, Mussoni e Zannoni insomma che sarebbero e saranno tre rientri importanti. Esatto, saranno tre protagonisti della squadra sicuramente. Noi allora ci fermiamo per una breve sosta dopo la quale dobbiamo vedere una doppia high five relativa a Torino RBR, dobbiamo parlare del campionato, sentire sempre il commento di Del Agnello che è sempre interessante e poi parlare anche del match ovviamente di domani sera al Flaminio con Cento e abbiamo anche un bellissimo servizio, dico da solo però sono molto soddisfatto sulle Saraghine Basket quindi restate con noi. e allora ripartiamo subito dalle parole di Sandro Del Agnello nel dopogara di Torino. Prima di tutto non è piageria ma grossi complimenti a Torino perché ci hanno fatto sudare ogni canestro che abbiamo fatto. Sono stati veramente intensi e organizzati. Potrebbe non sembrare perché abbiamo fatto 80 punti ma io conosco la mia squadra e non è così ce li siamo dovuti sudare tutti. Dall'altra parte però noi abbiamo fatto una prestazione difensiva secondo me veramente importante oggi riuscendo a chiudere tante cosine che ci avrebbero fatto male. Torino è una squadra molto atipica spesso giocano con 5 tiratori da 3 punti in campo e non è facile noi siamo riusciti a non soffrire né dentro né fuori dall'area. Credo che poteva finire anche in goleada non è successo grazie all'organizzazione al grande carattere che ha messo Torino in campo. È vero abbiamo vinto e abbiamo vinto abbastanza facilmente ma ho avuto da Torino un'ottima impressione. I miei sono stati proprio bravi però scusate me lo dico da solo ma sono stati proprio bravi. Ti rispondo sinceramente e ti vuoi rispondere con condizione di causa però io tutte le squadre ancora non le ho viste proprio tutte e quindi non vorrei dire castronerie. In sede estiva quando abbiamo iniziato tutti la preparazione avrei detto Cantù e Pesaro però vedi Cantù è prima o comunque lì Pesaro evidentemente c'è qualcosa che non va. Secondo me la differenza da questo campionato spero di risponderti così e i campionati di A2 degli ultimi 10 15-20 anni è l'alzamento del livello enorme che c'è quest'anno ma non perché non solo perché ci sono squadre ottime ma perché non ci sono più come gli anni scorsi 5-6-7 squadre in materasso dove va lì e dicevi insomma alla fine vado lì e vinco non è così restringendo il numero delle squadre secondo me si è amplificato questo fenomeno e credetemi ora forse Piacenza è un attimo in difficoltà ma con tutte le altre te la devi guadagnare. e abbiamo sentito anche un po' una lettura di questo campionato di Serie 2 24-25 da parte di coach Sandro Dell'Agnello sempre molto abile tra l'altro nel raccontare nel primo minuto di dopogara quello che è stato poi quella che è stata la partita che abbiamo appena visto appena vissuto insomma a caldo credo sia una bella dote quella del tecnico di RBR Tommaso sei d'accordo con coach Sandro è un campionato così come dice lui insomma non ci sono più squadre materasso c'è un livello che si è alzato insomma mi sembra che siano due riflessioni reali insomma sì sì assolutamente anche perché si è alzato il livello che dopo tanti anni è tornata anche la promozione diretta quindi magari tantissime puntano direttamente a quell'obiettivo e soprattutto le diciamo anche le ultime squadre adesso che sono in classifica fai fatica a ribattezzarle come squadre materasso o trasferte semplici al di là di Brindisi che è proprio un momento particolare perché comunque è la stessa cento vai a giocare lì è un campaccio adesso Livorno che è un po' più su è un campaccio vigevano uguale devi sempre entrare in campo con le scarpe allacciate perché se no è un attimo che ti fregano Alberto si campionato francamente bello intrigante mi viene anche da dire finalmente una formula steccata l'anno scorso non era così c'erano i due gironi si diceva appunto che uno era più forte ed era realmente così si è visto poi nei play out dove le tre squadre dell'altro sono andate giù a piombo di qua solo una è andata giù francamente è ancora molto presto sono d'accordo su spendere giudizi perché siamo 8 su 38 ragazzi mancano 30 partite ancora è lunghissima anche io credo che Brindisi non dovrebbe rimanere sempre lì sotto che Pesaro potrà tornare a quartieri che gli appartengono però la continuità è fondamentale secondo me è giustissimo che alla fine parliamo del 26 aprile chi si è dimostrato più continuo nell'arco di 7 mesi venga premiata con la promozione diretta poi mi piace perché quest'anno non dovremmo assistere a partite inutili perché se ci pensate dalla seconda alla settima fanno i playoff dall'ottava alla tredicesima fanno i play in la 14 alla 15 si fermano e sono salve dalla 16 alla 19 i play out dove anche lì arrivare 16 o 17 è meglio che 18 o 19 perché c'è la bella in casa e l'ultima anche qui come giusto che sia scende perché se nell'arco di 7 mesi ha dimostrato di averne meno degli altri è giusto che retroceda Rimini è lì lotta lotta insieme alle altre sta vivendo un momento fantastico francamente sono sincero io non me l'aspettavo una partenza così soprattutto alla luce del fatto che Robinson tu parlavi di percentuali ecco io dico al 50 penso di essere generoso insomma cioè è un giocatore che ancora non ci ha fatto vedere se non qualche sprazzo di cosa potrebbe dare e nonostante quello nonostante due partite saltate una saltata anche da Tomassini Rimini ha vinto 7 partite su 8 e addirittura si mangia le mani perché potrebbe essere un percorso netto come magari se fosse stato un po' più avveduta con Sividale insomma in quel finale di partita o se fosse tutto sommato è entrato un libero in più perché alla fine parliamo proprio di nulla sì è vero partita che come diceva qualcun altro si bilancia poi con quella di Piacenza dove se se Marini non la mette sulla sirena si va all'overtime e poi si poteva anche lasciarsi le penne perché non era scritto che si doveva vincere per forza bello bello è importante stare bene perché quando sarà il 17 novembre cioè a breve si sono state la bellezza di 12 partite in 50 giorni non dico un ritmo NBA ma ci andiamo abbastanza di fine di cui poi da quella di Torino all'1 al 17 5 in due settimane in 16 giorni a voi è già andato bene che avete avuto quelle 48 ore d'anticipo sì esatto che almeno avete messo 5 giorni tra le prime giorni erano 5 in 3 e dopo si respira fino a metà gennaio dopo si cadenza tutto a ritmo di una partita a settimana ovviamente Natale ve lo scordate di farlo a casa si va in palestra perché si gioca il 22 il 29 anche il 29 sì sì si gioca sempre sì 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 questo ritmo anche viste le condizioni visto qualche acciacco anche durante la preparazione alla fine però non sta fortunatamente Tommaso influenzando negativamente il RBR perché insomma c'era un po' di preoccupazione anche per quello l'inserimento di Robinson qualche acciacco che c'era stato sì 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 la cosa più sorprendente diciamo che noi dal 16 di agosto ad oggi abbiamo fatto al completo 10-15 allenamenti tra tutte le problematiche dell'arrivo di Robinson tardi vari acciacchi cose così e quindi risalta ancora di più questo primato e per quanto riguarda diciamo la distribuzione dei carichi ecco diventa fondamentale come dicevo prima questa rotazione a 9-10 che permette di non far giocare nessuno 35 e sovraccaricarlo di stanchezza facendo così in modo che non credo nessuno di noi adesso non ho statistica la mano non sopra i 30 minuti di media in campo e questo è un grandissimo vantaggio per noi Alessandro anche a te piace di più questa formula tornando alla formula del campionato così come giustamente diceva Alberto finalmente azzeccata con la promozione una promozione diretta una retrocessione diretta insomma un campionato vivo fino alla fine senza insomma anche quella fase orologio stucchevole che spesso e volentieri ha accompagnato le ultime edizioni ma fondamentalmente tu devi premiare con qualcosa qualcuno voglio dire tu fai 7-8 mesi di stagione 40 partite poi devi fare i playoff se arrivi primo cioè è una cosa che non ha senso secondo me almeno una la devi mandare su diretta poi il playoff è bello perché ha la sua storia ci paramentiamo sempre agli Stati Uniti ma gli Stati Uniti sono un altro mondo hanno un'altra mentalità si approcciano allo sport in maniera diversa in America non esiste retrocessione non esiste retrocessione e soprattutto delle 82 partite del regular season buone 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 ce ne saranno 15-20 a squadra perché per il resto è generoso ecco non è che si ammazzano voglio dire durante il campionato il playoff contano per cui la prima deve andare su diretta perché deve essere un premio come l'ultimo deve andare su diretta poi il resto questa formula secondo me è la migliore a me piaceva di più quando c'era più l'interscambio cioè tipo possiedono 4 promozioni dalla Lega 2 e 4 retrocessioni perché rendevi tutto un pochettino più intrecciato più competitivo però va bene anche così sono 2 più 2 2 con 2 e una diretta va benissimo a Torino non è mancato lo spettacolo ma quando c'è in campo Riviera Banca insomma lo spettacolo non manca mai devo dire la verità e anche per questo spesso e volentieri il Flaminio è sold out allora andiamo a vedere la nostra high five discrepanza di 2 secondi tra i cronometri ancora Alessandro Grande deve aggirare la difesa si alza da 3 solo ferro ma c'è Justin Johnson a mettere il punto esclamativo sul possesso cerca e trova solo ora il blocco di sec schina prova a mettersi in proprio riapertura per Montano un po' larga la riapertura di schina Montano contro Tomasini ha un po' di spazio Matteo Montano ancora una volta toccata da Camarà la palla di Matteo Montano non c'è alcuna infrazione secondo la terna arbitrale quindi è stoppata valida dall'altro lato Gerard Robinson con il flotter che stappa la terza frazione di gioco la sua valutazione la statistica valutazione è la più alta non solo della sua squadra ma dell'intera partita dall'altro lato Ajay regala quanto meno un po' di gioia al pubblico con una schiacciata che fa sempre piacere a livello di highlights sfrutta il blocco di Ladurner Ghirlanda prova a servirlo in un secondo momento ma viene impattato da Simeoni e allora riparte in vantaggio numerico Rimini con Marini contro Landi Marini bella la Veronica per servire poi Johnson che da solo si mette in proprio e schiaccia in maniera poderosa il nuovo più dodici Rimini Marini va da Johnson questa volta Ajay legge benissimo e viene aiutato da Ghirlanda scambia Ajay che va fino in fondo con le marce alte i motori bollenti Ife Ajay schianta con la dinamite nei bicipiti il pallone dentro il cotone meno due Torino Timeout Rimini e allora grande azione difensiva e poi schiacciate insomma meritava la numero uno secondo me questa questa doppia azione da parte dell'americano di Torino però insomma abbiamo già visto qualcosa ma il nostro focus di questa settimana è dedicato ovviamente a Camara vediamo l'i5 dedicata interamente a lui Camara Camara contro Ladurne prova a usare tutti i suoi chili ancora Camara prova ad appoggersi al tabellone ancora una volta ancora Camara mette due punti di puro atletismo e componente fisica Tomassini contro Severini cerca un aiuto in Camara non c'è ancora il cambio qua bene però eseguito il pick and roll altro giro a vuoto della difesa torinese altro grande esecuzione per Rimini due attacchi a vuoto ambo i lati per iniziare questo terzo quarto Ajai con lo step ancora una volta stoppata di Camara allora parte la transizione di schina che mette Enrico in angolo Ghirlanda che rifiuta il tiro va fino in fondo viene stampato al tabellone d'accordo Camara quando Torino rallenta fa decisamente tantissima fatica a trovare poi il fondo della retina qui però ancora Camara schiaccia sopra tutta Torino città inclusa andando a prendere il pallone sopra Ifea Ajai non proprio l'ultimo dei rimbalzisti insomma direi grande spettacolo tra Torino e Rimini anche a livello di azioni insomma abbiamo visto di eccezioni e qualcuna è dovuto rimanere fuori perché anche quella a cui faceva accenno prima Tommaso il recupero difensivo e poi il tiro da tre punti di Robinson era un'altra azione insomma ma ce n'erano tante qualche entrata di grande direi che è stata scelta la partita giusta da far vedere sulla Rai sì ci hanno steccato devo dire ci hanno steccato adesso anche la prossima non sembra male perché insomma hanno selezionato bene però questa era un po' più diciamo se vogliamo insomma difficile da capire perché c'era il valore di due squadre diverso insomma quindi invece alla fine è venuta fuori una bella partita spettacolare comunque Alberto ci scrive vedo tantissimi infortuni colpire le varie squadre di A2 quindi mi chiedo se non sarebbe opportuno ridurre le squadre partecipanti a 16 e quindi le partite di regular season a 30 invece delle attuali 38 cosa ne pensa Tommy? ma allora quest'anno si sono 38 ma l'anno scorso mi sembra che con quella formula ardiogogolata erano state mi sembra 34 quindi non tantissima differenza ecco è chiaro che è fondamentale star bene come diceva prima Alberto in questo primo spettone perché ce ne sono tantissime partite è vero quello sì in effetti insomma come ricordava anche Alberto il calendario continua ad essere fitto per le prossime settimane come e poi dopo invece arriverà una standardizzazione insomma anche normale insomma sarà più più normale il campionato rispetto alle altre diciamo rispetto agli altri campionati domani quindi mercoledì sera alle 21 ricordiamo al Flaminio c'è 100 Tommaso che insomma sarà un derby interessante chiaramente insomma Rimini ci arriva benissimo però insomma sono sempre partite da prendere con le con le assolutamente la classica partita da buccia di banana ecco perché su una guarda della classifica ovviamente pensa che non ci sia storia invece domenica hanno vinto quindi sicuramente arriveranno giù gasati e poi come dicevamo prima partite facili dove puoi andare in tranquillità non ce ne sono poi è sempre una partita molto sentita perché sicuramente ci saranno molti tifosi loro ripeto bisogna sempre stare sul pezzo allacciarsi le scarpe prima di entrare in campo e fare il proprio dovere quale può essere Morizio la maggiore insidia di questa partita per RBR le partite sono tutte insidiose c'è da dire questo che Cento viene con uno spirito diverso a Rimini avendo vinto in casa la partita è anche importante perché nonostante Brindisi abbia tante assenze è dovuta sudarsi alla fine alla fine chiaramente se veniva a Rimini con una sconfitta la pressione era diversa lo stato mentale di un giocatore cambia se devi vincere a tutti i costi o se devi andare a Rimini con la mente sgombra e fare una partita cercando di portare a casa il più possibile chiaro sono due situazioni diverse io credo che attualmente Rimini a meno che non abbia una di quelle serate dove tiri non segni mai e dove ti vanno via da tutte le parti non abbia dato queste sensazioni quindi non sarà una partita facile però penso che sia nelle proprie possibilità di portarla a casa e incrementare ancora punti in classifica Alberto un turno infrasettimanale che presenta diciamo qualche insidia secondo te per Rimini allora ci sono sempre le partite sulla carta e le partite sul caso certo io penso che attualmente sulla carta è più 20 per Rimini sulla carta io ho visto tutta la partita domenica di 100 con Brindisi francamente non mi è fatto una grossa impressione soprattutto per quello che riguarda gli americani uno addirittura passava i tiri a un certo punto Anderson non guardava il canestro non tirava più e anche lo stesso Davis in cooperativa al trentesimo mi sembra avessero 3 su 17 perciò è una squadra in difficoltà una squadra che è stata tenuta su di peso da da tanfoglio con play di 19 anni da sperduto che è una guardia che si sbatte che è aggressivo però le partite vanno giocate ripeto non vorrei che questo essere onestamente superiori anche come talento come uomo contro uomo finisse per imborghesire un po' una partita ecco per farli scendere in campo un pochino come diceva Tommy giustamente allacciare le scarpe è sempre ben stretta ecco perché le partite bisogna giocare Rimini-Fiorona è stata sempre assecondata da un tiro da 3 meraviglioso perché vorrei ricordare anche qui che 7 partite su 8 Rimini ha tirato con più del 40% da 3 e quando non ha tirato con più del 40% ha tirato col 38% che è stato contro la fortitude una squadra che viaggia col 44% cioè siamo mi sembra ci sia solo Udine che va sopra il 40% le altre scendono al 32% al 29% cioè perciò e abbiamo mi sembra 9 giocatori su 10 che possono tirare da 3% se togliamo Camara tutti possono tirare e far canestro da 3% questo è un bel vantaggio insomma poi la palla si muove bene c'è il piacere di passarsi la palla tra questi ragazzi però la partita va giocata ripeto poi magari abbiamo già visto la resurrezione di Harper con Forlì non vorrei che risuscitassero anche Henderson e Davis soprattutto Henderson ripeto che l'ho visto proprio dare sempre via la palla c'è una guardia americana che non guarda il canestro mi ha fatto un po' impressione alla fine ha messo una bomba a testa poi e quello ha aiutato 100 a vincere insomma anche perché non potevano fare a meno di tirare uno scadeva nei 24 l'altro pure insomma perciò ripeto sul pesto bene dall'inizio far capire insomma chi è che può essere più forte e poi la partita può prendere una certa dimensione se invece si va avanti un po' così a strappi tanto prima o poi tanto prima o poi si rischia poi si potrebbe rischiare tutto qua che partite ti aspetta Alessandro? dalle precedenti mi aspetto che tanto Rimini entra in campo con l'attenzione che ha sempre dimostrato in queste partite quindi voglio dire squadra tecnicamente più forte però è già stato detto bisogna solo prestare l'attenzione di non credersi troppo più forte di centro perché poi alla fine rischi di giocarti alla fine in fondo attenzione è una partita che sulla carta sono d'accordo col parere di Alberto è una partita che sulla carta dice più 20 Rimini però la palla 2 si alza domani sera alle 9 quindi voglio dire si vedrà lì cosa viene fuori però non me lo aspetto come una partita complicata ci chiedono anche se abbiamo già risposto meglio un calendario di partite così serrato che neanche tifosi si riposano quello dell'anno scorso con una fase ad orologio abbiamo già risposto insomma a noi piace più questa formula ne approfitto però Tommaso per chiederti qualcosa sui tifosi perché insomma non era scontato l'avvio ovviamente così brillante di RBR non era scontato che il pubblico rispondesse come ha risposto sia in termini di numeri di sottoscrizione di abbonamenti con un nuovo record sia in termini di presenze perché insomma abbiamo già fatto tre sold out e siamo andati vicini anche nelle altre partite tutto esaurito no no assolutamente c'è una risposta e un entusiasmo sinceramente a memoria ricordo poco ecco ma oltre a dentro al Flaminio quando c'è l'evento partita lo respiri anche per la città e sicuramente è una cosa che aiuta tantissimo sia per quanto riguarda il barrio con le sue coreografie sia per quanto riguarda tutto il resto del palazzetto è trascinante si è tornato a parlare davvero di pallacanestro in ogni angolo della città sì 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 assolutamente è quello che dicevo forse ancora di più del Flaminio tutto pieno è quello il vero termometro che ti fa capire che la passione è risbocciata in questo parte chiaramente il primato quanto è stato importante aver vinto finalmente due derby con fortitude for lì ovviamente vincere perché il derby è sempre il derby certo si si conforme a fortitude ovviamente vincere aiuta a portare gente al palazzo aiuta a far crescere l'entusiasmo è normale è sempre stato così però credo che questa sia una cosa trascendente dal risultato ecco l'entusiasmo c'è e anche nell'unica partita in cui abbiamo perso con Cividale siamo usciti tra gli applausi quindi è una gran bella cosa tu segui sempre tanto insomma tutti i campionati ma chiaramente quello di A2 in maniera particolare visto che c'è Rimi nella tua squadra qual è la squadra incontrata fino a questo momento che ti ha impressionato di più e quale in assoluto quella anche magari non incontrata ancora e magari per averla vista in televisione visto qualche partito ma al momento sicuramente la più completa mi sembra Cantù sia per profondità di roster che per allenatore perché non ci dimentichiamo che ha preso il migliore natore della Serie A dell'anno scorso Cantù Brienza e la squadra fino adesso che mi ha impressionato di più è stata l'unica diciamo che ci ha battuto perché comunque le squadre di di Spillastrini hanno sempre una solidità molto particolare pur non avendo a roster a nomi diciamo delle cose eclatanti però sono sempre lì a darci fastidio e a dar fastidio a tutta la Lega quindi direi loro Sabato in casa con Castel San Pietro i Villanova Tigers Alessandro Sì arriviamo un po' con i cerotti come parlavamo prima però sicuramente aspettiamo il ritorno del capitano Zannoni con lui sicuramente sarà una palacanestro e speriamo di divertire il nostro pubblico come nelle prime in casa vi aspettiamo beh diciamo che dopo la vittoria con Riccione però sembra che insomma visto che avete dato a continuità anche con quella con Cesena mi sembra insomma che adesso ci siate l'approccio l'abbiamo capito adesso anche il primo anno che mi alleno con Miriello Marco Miriello è tornato quest'anno in Romagna dopo gli anni in Veneto lui vuole un basket molto corri e tira difendiamo forte secondo me con col roster con la rosa che abbiamo può cozzare bene quindi anche noi giocatori adesso stiamo iniziando a capirci meglio tra di noi quindi sicuramente come ti trovi con coach Miriello molto bene sì sì anche come persona è un bravissimo uomo una bella persona sto bene bene allora noi siamo in chiusura ringrazio i nostri ospiti di questa sera ovviamente il nostro Alessandro Ceccoli grazie Roberto buonasera a tutti grazie a Tommaso Rinaldi grazie a tutti al nostro Maurizio Benatti grazie buonasera ad Alessandro Vandi grazie e ad Alberto Crescentini saluti chiudiamo come promesso con il basket femminile perché le saraghine di Miramare sono iscritte quest'anno al campionato di Serie C tra l'altro proprio domani sera ci sarà in contemporanea di fatto con la partita di RBR e un derby riminese con appunto l'altra squadra che partecipa alla Serie C di Rimini scopriamo tutto nel servizio e con la nostra serata basket di calcio.basket e vi diamo appuntamento a martedì prossimo sempre a partire dalle 20 e 35 20 e 40 buon proseguimento quella delle saraghine è una storia di amicizia e di amore per la palla spicchi tre amiche cresciute nel vivaio del primo caso basket Rimini si ritrovano a distanza di anni ricominciano a giocare e decidono di formare una squadra per partecipare al campionato amatoriale Wisp le saraghine sono nate nel 2021 quando tre ragazze di noi tra cui io mia sorella e un'altra ragazza che giocavamo insieme tanti anni fa quando eravamo nelle giovanili eravamo in un campetto così perché non abbiamo mai smesso di voler giocare a basket e abbiamo detto ma perché non proviamo a mettere su una squadra e così abbiamo fatto un annuncio su Facebook e su Instagram dicendo orario luogo di incontro e in un campetto la Darsena all'appuntamento hanno risposto in tantissime e così è nata la squadra il nome scelto dalle ragazze che si allenano a Miramare non è casuale ma ricercato la saraghine infatti è un pesce povero un tempo scartato dai commercianti che prediligevano sardine e acciughe ma che oggi è stato rivalutato anche dai grandi chef perché possiede un alto valore nutrizionale ed è caratterizzato da una maggiore sostenibilità l'anno scorso le saraghine hanno toccato quota 35 quest'anno le tesserate sono 27 ed il campionato affrontato è quello di Serie C adesso a tesserate siamo 27 l'anno scorso siamo arrivati anche a 35 e piano piano stiamo crescendo ci sono un sacco di ragazzi nuove che continuano a scriverci per volere giocare con noi e sono ragazzi soprattutto che vogliono ricominciare quindi dai 30 ai 60 anni abbiamo anche delle 5 master della nazionale italiana che hanno giocato anche l'over 60 altre ragazze che hanno smesso per motivi familiari perché hanno messo su famiglia per studio per esperienza all'estero poi sono tornate hanno sentito parlare di noi e vogliono tornare a giocare quindi noi l'accogliamo e cerchiamo di fare il massimo beh intanto è un'esperienza bellissima perché siamo una squadra unica nel suo genere in Italia perché in nessun roster dei campionati senior dalla Serie C la sera c'è un roster dai 30 ai 62 anni quindi questa è una squadra unica nel suo genere chiaro con tutti i limiti ma con tutta la bellezza di vivere un'esperienza del genere è una squadra che ha una natura diversa perché abbiamo le ragazze sui 30 anni che sono giovani atletiche abbiamo anche le ragazze che sono tornate a giocare a basket e questo è il bello di questa squadra delle seraguine dopo tanti anni è che affrontano una preparazione un campionato vero questa volta quest'anno il salto in Serie C siamo molto contenti di questa opportunità perché quello che ci mancava negli anni scorsi era di confrontarci con altre squadre perché nel territorio non ci sono squadre a livello Wisp molto vicine sono tutte molto lontane quindi invece nella Serie C c'è più possibilità poi quest'anno c'è stato un boom di iscrizioni quindi siamo tre gironi da otto squadre e non vediamo l'ora di confrontarci con le avversarie anche pensando però che il nostro obiettivo è di giocare a basket divertirci senza nessuna pretesa e l'importante è stare insieme e dare il massimo ogni volta Alla prima di campionato sarà subito derby con il Sunrise Basket Rimini L'ultima volta che hanno giocato in Serie C a Rimini era il 2018 e quindi adesso dopo questa grandissima esperienza nostra arriva anche Sunrise che incontriamo mercoledì prossimo alle 21 qui a casa nostra ed è sicuramente una cosa storica per noi e anche per loro perché Rimini vive un derby di Serie C femminile grazie a te Calcio Punto Basket è stato offerto da A più Studio Archigest Consorziologica Autodemolizione Casa Dei Bike Service Caffè Giglio Cive La tua nuova casa Clinica Nuova Ricerca Consulta Emporio Gastronomico e Coconuts Erbavita Gruppo Markar Isolcasa Lasersoft Lo Zodiaco Frontemare Misano World Circuit Onoranze Funebri Cappelli Onoranze Funebri San Gaudenzo Osteria La Cappannina e la Tramonteria Qui Si Sana Ristorante La Cappa Rose and Crown Rosso Pomodoro Pizzeria Pizzeria Prima o Poi SGR Luce e Gas